andres gila aspetta il suo primo figlio l'ex vincitore di ballando con le stelle vinto nel 2012 in coppia con anastasia kuzmina e concorrente di pechino express a cui ha partecipato nello stesso anno sempre insieme alla ballerina diventerà padre l'annuncio lo fa sul social la sua famosa fidanzata influencer da due milioni di follower e attrice dal 2015 il 34 n ha una relazione con candela vetrano che il prossimo 9 agosto compirà 33 anni i media argentini nei giorni scorsi hanno anticipato la gravidanza di candela i gossip poi si sono trasformati in realtà la vetrano su instagram in una storia ha pubblicato una foto in cui ecco il suo andres i due sorridono felicissimi a corredo dello scatto semplici parole e sta pasando tradotto sta accadendo ad accompagnare la frase le emoticon di un cuore di un pulcino che esce da un uovo appena nato gil diventato famoso nel 2007 con il ruolo di bruno molina nella telenovela argentina il mondo di patti sulla storia con candela in un'intervista aveva raccontato l'ho conosciuta nel dicembre 2015 grazie a santi talledo lei andò a cantare ad un festival a napoli e milano per un programma che aveva fatto con chris morena super torpe io parlai con santi e rimasero tre giorni a casa mia a roma ho fatto loro da guida turistica in giro per la città e con lei andavamo d'accordo due settimane dopo sono venuto a buenos aires per trascorrere le vacanze e ci siamo visti per tutto il mese l'amore è nato così spontaneamente a maggio venne a trovarmi e ad agosto tornai a trovarla siamo stati un anno distanti e poi siamo diventati inseparabili a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.